Ciao a tutti, rieccoci sempre da Malta, 20 sono rimasti i giocatori, siamo sempre nel 17esimo livello, ante 500, blinds 2500-5000, facciamo una carrellata nei 3 tavoli ancora in gioco con 20 giocatori che possono ambire a conquistare l'IPT Malta, non a tappa e penultima di questa seconda stagione, carrellata al tavolo 1. Ci spostiamo al tavolo numero 3, fermiamo quel tavolo in fondo dove ci sono tutti i miei colleghi, vediamo il tavolo finale, c'è una mano in corso, lo vedete, tavolo numero 4, vi ricordiamo che domani si giocherà lunedì il final table di questa IPT Malta.